Il deputato salernitano di Fratelli d'Italia e questore della Camera Edmondo Cirielli è risultato nuovamente positivo al coronavirus. Si tratta di uno dei primi casi accertati in Italia di doppio contagio da Covid-19. A raccontare la sua esperienza, proprio l'onorevole dalla sua pagina Facebook, chiarendo di essersi sottoposto a un test sierologico dal quale sarebbe risultata la possibilità di avere ancora un'infezione in corso. Disposto con urgenza a un nuovo tampone, al ruggi, al cotugno, è risultato positivo a entrambi. Clima anomalo e sospetto all'ospedale di Salerno. Denuncia Cirielli, porterò il caso in Parlamento. Sono stato bene assistito a livello territoriale dalla mia ASL, ma precisa. Devo presupporre che le autorità regionali sanitarie non comunichino con il Ministero della Sanità, visto che qualche giorno dopo che sono risultato di nuovo positivo, l'Istituto Superiore ha annunciato in maniera trionfale che tutti i guariti sono immuni. Ho scoperto anche un caso analogo al mio. Si tratterebbe di una donna del Salernitano, 78enne infettatasi nuovamente e morta pochi giorni dopo. Raggiunto telefonicamente, per il momento il deputato non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Intanto a Salerno non si fermano i controlli per accertare il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19. In strada con la Polizia Municipale anche il sindaco Vincenzo Napoli, che ha invitato i cittadini a non vanificare gli sforzi di queste settimane con comportamenti irresponsabili. Blitz anche negli esercizi commerciali, anno c'era inferiore. Denunciati due farmacisti, vendevano mascherine senza requisiti e a un prezzo maggiorato.